La bellezza dello stare insieme e le famiglie della nostra diocese in montagna hanno trascorso intensa giornata all'insegna della riflessione e della condivisione. Volontariato in festa martedì 31 agosto a conclusione della mensa a sostengo si è tenuta una serata di testimonianze e musica. Via da casa, migrazione e cambiamenti climatici al centro pastorale diocesano sabato 28 agosto parole musiche e teatro per riflettere sul tema del rapporto tra migrazione e impatto ambientale. Artisti per Dante alla Rocca Malatestiana fino al 19 settembre sarà possibile visitare la mostra dedicata alla Divina Commedia. Ben trovati a questa edizione del TG Web, edizione che apriamo con le famiglie in particolare, le famiglie della nostra diocese che in estate come da tradizione si ritrovano insieme in montagna per trascorrere un periodo di vacanza all'insegna della riflessione e della condivisione. Con loro alcuni giorni è stato presente anche il nostro Vescovo Armando. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Marco Gasparini. Tante famiglie si sono ritrovate dal 21 al 28 agosto ad Andalo per vivere una settimana di riflessione e vacanza insieme al Vescovo Armando e al Vicario Generale Don Marco Presciutti. L'iniziativa promossa dall'Ufficio di Pastorale Familiare è un appuntamento importante per la vita della nostra Chiesa locale, un punto di partenza per rigenerarsi e rimettersi in cammino nella quotidianità. L'esortazione apostolica a Moris Letizia di Papa Francesco è stata il filo conduttore di questa esperienza approfondita nelle riflessioni del Vescovo, del Vicario Generale e dei direttori dell'Ufficio Pastorale Carlo e Nicoletta Berloni. Occorre rimettere al centro la bellezza dello stare insieme, ha detto Monsignor Trasarti e le famiglie. Non sei mai famiglie perfette, ma si può essere famiglie giuste, capaci di chiedere perdono e di attenzione all'altro. Siamo chiamati a formare coscienze e non a sostituirle. La famiglia oggi deve avere alcuni punti fermi, un progetto di vita comune, una spiritualità e un'attenzione alle relazioni profonde. Guardatevi negli occhi almeno dieci minuti al giorno, ha detto il Vescovo agli sposi. Raccontatevi il vissuto quotidiano e non date nulla per scontato. Cercate di andare d'accordo con tutti, ma senza cercare per forza il consenso della massa. Non andate dietro ai sondaggi, ma testimoniate e annunciate il Vangelo fedelmente con scelte concrete. Il così fan tutti non è un percorso formativo da seguire. L'altro grande tema affrontato è stato quello dell'educazione dei figli. Hanno bisogno di correzioni, ma senza scaricare su di essi l'aggressività, ha proseguito il Vescovo. Nella nostra società si parla solo di condanna e di chi sbaglia, ma occorre invece chiedersi cosa è successo prima. Distinguere tra colpa e dolore, guardare il lato buono e positivo di ogni persona. Nell'educazione dei figli dobbiamo valutare il rapporto tra errore e correzione, ricordandoci sempre che una carezza guarisce più di una punizione. La fede è la cosa più preziosa che abbiamo, la dobbiamo sapere trasmettere ai figli, ma non è facile e non c'è una ricetta di successo. Esso non passa attraverso le parole, ma tramite lo sguardo di Gesù che ci cambia. La preghiera è altresì fondamentale, ha ricordato Carlo Berloni, è una goccia che rende fecondo il terreno per far crescere così la spiritualità della famiglia. Vivete dunque una profonda spiritualità interiore, ha concluso Don Marco Presciutti, essendo autentici, senza voler apparire, creando così una vita d'amore per i vostri figli. Scambiatevi Dio a vicenda tra gli sposi e siate sacramento e icona della Trinità. Tanti dunque gli spunti di riflessione per crescere come famiglie emersi in questa settimana di vacanza, tra passeggiate e chiacchierate sui prati che hanno reso davvero questa settimana un tempo di grazia per tutti, un dono da condividere nella quotidianità della vita a ritorno a casa. Presenti anche a questa esperienza i due seminaristi della nostra diocesi, che con grande disponibilità hanno animato le liturgie e la preghiera, soprattutto con i bambini, veri protagonisti delle giornate. Giovedì sera poi si è vissuto anche un incontro missionario organizzato dal Centro Missionario di Cesano sul tema dell'informazione dal sud del mondo, dal titolo Famiglie Informate. E dalla montagna ci spostiamo al Centro Pastorale di Ocesano per parlare di volontariato. A conclusione della Mensa Sostengo, martedì 31 agosto, si è tenuta Volontariato in Festa, una serata ricca di testimonianze e musica organizzata dalla Caritas di Ocesana. A introdurre Andrea Paoloni, che ha sottolineato l'importanza della serata dedicata a tutti i volontari che hanno partecipato all'esperienza della Mensa Sostengo e della Mensa Domenicale, organizzata dalla Caritas di Ocesana con il sostegno della Diocesi e del Vescovo Armando. E ancora presenti, oltre al Vicario Pastorale della Diocesi, Don Francesco Pierpaoli, del direttore della Caritas di Ocesana, Angelo Farneti, l'assessore al welfare del Comune di Fano, Dimitri Tinti, a dimostrazione che la dimensione della gratuità e del volontariato si sposa bene con la dimensione della responsabilità civica. Il momento di preghiera è stato guidato da Suor Catherine ed è iniziato con una storia vera presa dalla vita di Madeleine de Brel, una donna francese che ha vissuto dal 1904 al 1964 e ha iniziato a fare il suo cammino di carità come assistente sociale. La serata è proseguita poi con la musica e le testimonianze di chi ha offerto il proprio tempo e il proprio aiuto ai più bisognosi, testimonianze che hanno toccato il cuore dei presenti per la loro ricchezza di umanità. E rimaniamo sempre al centro pastorale di Ocesano perché sabato 28 agosto scorso, nel chiostro del centro pastorale, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, si è tenuto lo spettacolo Via da casa, migrazioni e cambiamenti climatici attraverso parole, musica e teatro, a cura del gruppo Fuoritempo di San Michele al Fiume e del gruppo musicale Nineteen Fort. All'iniziativa erano presenti circa una sessantina di persone. Dopo la presentazione iniziale di Michela Pagnini si sono alternati il gruppo Fuoritempo di San Michele al Fiume e la band Nineteen Fort di Senigallia. Questa serata, ha sottolineato Michela nell'introduzione, è inoltre parte integrante della manifestazione regionale Se vuoi la pace prepara la pace, promossa dall'Università per la pace delle Marche e cofinanziata dalla Regione Marche con il patrocinio del Comune di Fano, assessorato ai servizi educativi cremi. Manifestazione che quest'anno ha raggiunto la non edizione e che offre un ricco programma di iniziative culturali. L'iniziativa, che ha avuto anche il patrocinio gratuito del Comune di Fano, assessorato alla pace, è stata pensata proprio per riflettere in chiave artistica e culturale sul difficile tema del rapporto tra migrazione e impatto ambientale causato dall'uomo e dalle sue attività. Parliamo ora di arte, perché fino al 19 settembre alla Rocca Malatestiana di Fano è possibile visitare la mostra Artisti per Dante, una lettura in chiave artistica della Divina Commedia. Fino al 19 settembre nel Salone della Rocca Malatestiana di Fano è possibile visitare Artisti per Dante, rassegna d'arte che ha ricevuto anche il patrocinio dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e che rientra nel più ampio progetto Fano per Dante. 65 artisti si sono cimentati con una lettura contemporanea della Divina Commedia, trascrivendo visivamente un concetto letterario, come ha sottolineato il critico d'arte Claudio Ceritelli durante l'inaugurazione lo scorso 26 agosto. Senza vincoli strettamente filologici, la mostra, curata dal professor Giovanni Bellantuono e dal già direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Brera, Gastone Mariani, è un invito a immergersi in un viaggio, esplorando i diversi punti di osservazione, quelli che Ceritelli definisce trasmutazioni visive del linguaggio poetico, dalla parola di Dante, alla tela, alla carta. Dopo l'allestimento a Fano, la mostra sarà ospitata dal Palazzo della Permanente di Milano e in seguito, in chiave virtuale, presso sedi prestigiose degli Istituti Italiani di Cultura. A Fano, l'esposizione a ingresso libero e con Green Pass, si potrà visitare fino al 19 settembre 2021, dal martedì alla domenica, dalle ore 21 alle ore 23, nel Salone della Rocca Malatestiana. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire il nostro TG sul sito fanodiocesi.it, su fanodiocesi.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale! Grazie per aver guardato il nostro canale!